Elmer e l'arcobaleno Quel giorno Elmer, l'elefante variopinto, si trovava in una caverna, dove si era rifugiato per ripararsi da un temporale. Insieme a lui c'erano anche altri elefanti e qualche uccellino. I tuoni e i fulmini sono sempre uno spettacolo emozionante, osservò Elmer. E poi, chissà, magari dopo la pioggia riusciremo a vedere anche l'arcobaleno. Quando finalmente smise di piovere, Elmer e gli uccellini uscirono dalla caverna. A un tratto Elmer sentì delle goccioline cadergli sulla testa. Egli esclamò, ma sta ancora piovendo. Forse sono le lacrime dell'arcobaleno, disse uno degli uccellini. Deve essere uscito troppo presto e ha perso tutti i suoi colori. Guardate! Il cielo era attraversato da un'ombra pallida a forma d'arco. Un arcobaleno senza colori, gridò Elmer. È terribile! Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Vuol dire che gli darò i miei di colori. Già, ma per farlo devi trovare il punto in cui l'arcobaleno tocca la terra, osservò un altro uccellino. E nessuno ha idea di dove sia. Beh, che cosa aspettiamo, ribatte Elmer. Mettiamoci a cercare questo posto. Voi andate da quella parte. Io andrò da questa. Che cosa stai cercando, Elmer? Gli chiese Leone. La fine dell'arcobaleno, gli spiegò Elmer. Sai dove si trova? L'arcobaleno ha perso i suoi colori e io posso dargli i miei se troviamo il punto in cui finisce. Un arcobaleno senza colori. Certo, è un bel problema, intervenne Tigre. Vieni con me. Faremmo meglio ad andare a cercarlo. E anche voi, coniglietti. Poco dopo, Elmer incontrò un'altra amica, Giraffa. Guarda, Elmer, gli disse Giraffa. C'è qualcosa di strano nel cielo. È l'arcobaleno, le spiegò Elmer. E le raccontò di come avesse perso i colori. Per caso tu riesci a vedere il punto in cui tocca la terra? Giraffa allungò più che poteva il suo collo già lungo. No, mi dispiace, rispose. Ma che cosa succederà a te, Elmer, se gli dai i tuoi colori? Gli chiese Giraffa. Elmer però si era già allontanato per tornare dagli altri elefanti. Non abbiamo nessuna intenzione di uscire dalla caverna finché c'è quella cosa strana nel cielo, dissero a Elmer. Ma quando Elmer ebbe spiegato loro il problema, anche gli altri elefanti decisero che dovevano assolutamente aiutarlo. Che succederà a Elmer però se regala i suoi colori all'arcobaleno? Domandò uno degli elefanti. Beh, immagino che diventerà semplicemente come tutti noi, gli rispose uno dei suoi amici. Sempre meglio un elefante grigio di un arcobaleno scolorito. Quando gli uccellini tornarono da Elmer, l'elefante variopinto era dalle scimmie. Per ora niente, li informò Elmer, ma continueremo a cercare. Nessuno può trovare la fine dell'arcobaleno, obiettò una scimmia, ma potrebbe essere divertente. Almeno proviamoci. Quando Elmer arrivò al fiume, tutti ormai stavano cercando l'arcobaleno. Ciao pesci, li salutò Elmer. Immagino che voi non sappiate dove incomincia l'arcobaleno, vero? Beh, di solito parte dove c'è la cascata, rispose invece un pesciolino. Oggi però c'è una strana cosa pallida laggiù. Ma certo, è proprio l'arcobaleno, esclamò Elmer. Venite, corriamo subito là. E infatti era proprio così. Un arcobaleno completamente scolorito usciva dalla cascata. Alla fine la lunga ricerca di Elmer e dei suoi amici era terminata. L'elefante variopinto, i pesci e i coccodrilli si misero a chiamare a gran voce tutti gli altri animali. Poi, senza aspettare oltre Elmer, si infilò dietro la cascata. Quando gli altri animali arrivarono sul posto Elmer era sparito e a poco a poco l'arcobaleno cominciò a riprendere i suoi colori. Evviva! esultarono gli animali. Sì, ma a Elmer che fine avrà fatto? Bisbigliò un elefante. Per tutta risposta Elmer uscì da dietro la cascata e, incredibile a dirsi, aveva ancora tutti i suoi colori. Gli animali si abbandonarono di nuovo a grida di gioia. Ma Elmer osservò uno degli elefanti. Se hai dato i tuoi colori all'arcobaleno, come fai a essere ancora variopinto? Elmer ridacchiò. Vedi, ci sono certe cose che puoi dare agli altri senza perdere nulla. Cose come l'amore, per esempio, la felicità o anche i miei colori. Più tardi, tornando indietro, Tigre disse Sapete, per un po' mi sono chiesto se non sarebbe venuto fuori un arcobaleno a scacchi colorati, proprio come Elmer. Elmer ridacchiò divertito. Non dirlo neanche per scherzo, ribatte Leone. Abbiamo già abbastanza problemi con un elefante a scacchi colorati. Questa volta Elmer scoppiò in una fragorosa risata, piena di allegria. Fine